Musica Giuseppe Zeno, Carlo Bucirosso, Glauco, Mauri, Francesco Cecchella e ancora Ferzan Ozptek, Francesco Pannoffino, Luigi Locascio, Giuliana Adesio, Alessandro Haber e per finire Arturo Bracchetti e Umberto Orsini. Questi gli appuntamenti della nuova stagione teatrale al Comunale di Caserta, targata Teatro Pubblico Campano. Dieci spettacoli che animeranno il palcoscenico dal prossimo novembre e fino ad aprile, una stagione delle eccezionalità e delle eccellenze. Caserta si riconferma ancora una volta città della cultura, oggi la presentazione del teatro, ieri il via a un'estate da bel vedere, insomma siamo sulla direttiva. Con la cultura noi vogliamo costruire la nuova città, il cammino nuovo che abbiamo messo in campo. La nuova stagione teatrale 2023-2024 la presentiamo con grandi eventi, con grandi artisti, con dieci grandi spettacoli che mettono al centro questa contaminazione di culture diverse, di posizionamento diverso, anche di lettura diversa del teatro. Invito tutti, tutti i casertani, tutti gli amanti del teatro a fare il loro abbonamento, a iscriversi, perché il venerdì, sabato e domenica saranno delle straordinarie giornate per vivere cultura, per vivere grandi artisti e per avere anche l'entusiasmo del teatro.